Siamo al Forum PA, quindi mi rivolgo direttamente alle pubbliche amministrazioni, in particolare a quelle locali, chiedendo loro, invitandole a sfruttare al meglio l'opportunità del federalismo del Magnave. Quindi l'acquisizione gratuita dei beni dello Stato, dei beni immobili dello Stato, che possono essere usati sia per fare operazioni importanti di riqualificazione urbana, anche sfruttando altri finanziamenti che arriveranno da parte dei governi, sia per utilizzare il mobile pubblico dello Stato e del Comune come leva di sviluppo territoriale, quindi per dare lavoro ai professionisti che fanno i progetti, per dare lavoro alle imprese edili che devono ripropiare.